Benvenuti alla ventesima edizione dei Vespri d'Organo, festival organistico internazionale che prevede concerti fino al 21 agosto a Pesaro, Monbaroccio, Montelabbate e Urbino. Martedì 23 luglio al borgo di Monbaroccio, nella chiesa dei Santi Vito e Modesto, ad esibirsi saranno Letizia e Elena Romiti, rispettivamente all'Organo e all'Oboe, che daranno voce ad un programma dedicato a questo ensemble nel periodo tra rinascimento e classicismo. L'ingresso è libero.